Due gesti di valore opposto, entrambi con protagonisti ragazzini adolescenti immortalati da video di cellulari o di sorveglianza. Ma se da un lato l'occhio impietoso delle telecamere racconta l'ennesimo atto di bullismo a opera di ragazzini poco più che adolescenti, l'altro episodio, registrato pochi giorni prima, racconta una realtà diversa, fatta di solidarietà e rispetto verso gli ultimi. Questi i fatti. Sabato mattina, nel parcheggio di uno dei tanti supermercati della città, dove abitualmente staziona un uomo in stampelle che chiede qualche spicciolo ai clienti, una gang di ragazzini prende di mira il disabile per divertirsi un po'. Le immagini del video sono molto eloquenti. I ragazzi arrivano anche a sputarli addosso dopo averlo deriso e insultato. Una scena degradante e ancor più preoccupante perché ad agire sono dei minorenni. Giovanissimi che però non si sono fatti scrupolo di nulla, prendendo di mira un uomo inerme. In pochi istanti l'odio dei minori senza alcun valore si è manifestato alla luce del sole, senza che nessuno abbia fatto nulla per darguirli. Anzi, la scena è stata immortalata in un video che gira sui social. Un'azione ignobile che dimostra l'assenza di qualsiasi remora da parte di un gruppo di ragazzini che non hanno avuto nulla di meglio da fare che cancellare la dignità di chi ha già patito nella vita ed è costretto a chiedere pochi spiccioli pur di andare avanti. L'uomo non ha potuto neanche reagire visto che con la disabilità alle gambe a malapena riesce a muoversi ma solo con le stampelle. Pochi giorni prima però l'altra faccia della medaglia. A poche centinaia di metri di distanza, un altro supermercato e un altro video, con protagonisti dei ragazzini e una persona fragile. Stavolta una donna con un neonato che chiede le lemosine all'ingresso dell'attività commerciale. Nel video, immortalato dall'impianto di videosorveglianza del locale, si vede un gruppo di giovanissime avvicinarsi alla madre e al figlio ancora in fasce e con estrema semplicità offrire loro un sacchetto con del cibo, acquistato appositamente per loro. La donna le guarda incredula e per prima cosa mette in mano al figlio quello che le è stato offerto. Un messaggio diverso di una città solidale che respinge la violenza e l'odio. Nulla a che fare con l'indifferenza e peggio ancora con la violenza e la sopraffazione ai danni di chi ha già subito tanto dalla vita. Un gesto che ha commosso il responsabile del supermercato Cristoforo Infurna, che ha voluto rendere pubblico il video. La scena che mi è piaciuta e mi ha anche commosso, voi perché sono un padre anch'io, vedere che c'è il lato bello dei giovani, quindi questi ragazzini, signorinelle, che facevano un gesto nobile e questo ci lascia besperare che effettivamente la gioventù non è solo quella che è maltrattata ma anche quella buona. Deve essere un insegnamento per tutti i ragazzi perché questo è quello che veramente, come dicevo poco anzi, c'era speranza di un futuro migliore per tutti perché la gioventù è coloro che porteranno avanti i valori che noi abbiamo cercato di dare ai nostri figli. Che sensazione ha avuto riguardando quella scena? Bellissimo, guardate e riguardate più volte perché mi sono anche commosso, perché ripeto, questo è quello che noi vogliamo e ci auguriamo che veramente vada avanti e non i gesti bullismo fatti in quella maniera come è stato fatto al ragazzo disabile. Quindi questa è la gela che noi vogliamo, i giovani che noi vogliamo.